Cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla FIPI-Li. È prevista neve in A1 tra Parma e il Bibio con la variante di Valico. Neve sulla statale Trebisti-Berina tra Madonnuccia, Poggiolino e Canili. Sulla statale 64 Porrettana rallentamenti in entrambe le direzioni per una nevicata in atto tra Pavana, Pistoiese e Casoni. Guidare con prudenza per il ghiaccio sulla statale 12 della Betone e Del Brennero tra Valico della Betone e Pavullo nel Frignano. Si segnala pioggia in A1 tra Chiusi Chianciano e Orte. Infine per i traghetti la corsa Toremar da Piombino a cavo delle 14.55 è stata cancellata per maltempo. Muoversi in Toscana Info in servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie!